Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su P-Quad. Oggi ci imbarchiamo in questa avventura parlando di un libro fumettoso di Leo Ortolani e Larry, ovvero The Art of the Rat. Eccolo qua, un volume molto grande, che rispetto a me è abbastanza grande. Non grosso, ma un bel volume. E niente, voglio condividere con voi questo libro e farvi vedere le bellissime illustrazioni che ci sono all'interno. Perché merita? Questo libro, che poi fondamentalmente è un catalogo, uscito nel 2011, in occasione dell'omonima mostra fatta all'interno del Cartoon Club a Rimini, il Festival Internazionale del Fumetto. Ma bando alle ciance, o ciancio alle bande, come preferite, guardiamole insieme. Larry e Leo Ortolani, Ratman, The Art of the Rat. Per chi non lo sapesse, Larry è lo pseudonimo di Lorenzo Ortolani, nonché fratello di Leonardo Ortolani. In questo caso, Leo. Per tutti i conosciuti, Leo. Leo. Leo, 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 Leo. Allora, questo, dicevo, è un catalogo dell'omonima mostra fatta qualche tempo fa al Cartoon Club di Rimini. All'interno del catalogo ci sono anche degli approfondimenti testuali, che sono delle rubriche, alcune scritte da Leo Ortolani, altre da Larry, e questa, come vedete, è l'introduzione di Sabrina Zanetti, ovvero la direttrice artistica di Cartoon Club. All'interno di questo volume ci sono tantissime illustrazioni dove Ratman impersonifica o personaggi abbastanza conosciuti, quindi riinterpretati dalle Ortolani, o semplicemente delle visioni di Ratman, molto molto belle, con i colori appunto di Larry. Una delle parti più belle è sicuramente quella dedicata ai supereroi americani, oltre che no, che è questo Ratman, e vi faccio vedere subito. Sono tante le illustrazioni, non sono poche. Allora, guardate che bella è questa qua. Andiamo un po' avanti così vi faccio vedere le illustrazioni che meritano più delle mie parole, sicuramente. Bisognerebbe guardarle una ad una, ma il video durerebbe troppo, quindi qualche salto lo faccio. la serie. Guardate, guardate che belle queste. Questo è un calendario disegnato da Ortolani e questa figura si chiama La Gatta. Che meraviglia! Questo bianco e nero che mi ricorda moltissimo il film Casa Blanca. Non so perché. Qualcuno dei Rimini che sarà andato al Cartoon Club sicuramente si ricorderà di questa mostra e molto probabilmente avrà anche questo catalogo. A me mi è stato regalato con l'abbonamento della rivista Fumo di Kina, che ringrazio ancora per questo bellissimo regalo. Ben accetto, ovviamente. Beh, disegni molto erotizzanti e che sono belli. Poi vi faccio vedere da parte queste. Volevo farvi vedere le visioni del Signore degli Anelli, questa. Star Wars. Sempre i colori di Larry, le illustrazioni di Leo Ortolani. Questa è la visione di 300, ovvero 299 più 1. Avarat, di cui, se non lo sapete, Leo Ortolani ci ha fatto anche una trasposizione a fumetti. Molto bello, un piccolo fumetto cartonato in formato orizzontale che presto porterò anche sul canale. E poi questa fuori serie. Tra le altre rubriche c'è anche questa. Personaggi abbastanza conosciuti. Star Wars, Capitale America e alcuni schizzi. Che dire, Dylan Dog, bellissima anche questa. Di quando Leo Ortolani si proponeva alla Sergio Bonelli, prima che inventasse Ratmar, per disegnare Dylan Dog. E chissà, magari un giorno lo chiameranno a fare qualcosa. E poi una serie di cartoline tipo Rattolino, questa visione sul topolino. E niente. E il volume, il catalogo, si chiude così. Guardate che bella questa con Zagor e Corto Maltese anche. Che dire, ognuna di queste illustrazioni meriterebbe un approfondimento. Però ovviamente durerebbe 50 ore il video e non è il caso di farlo così lungo. Abbiamo visto The Art of the Rat. Il protagonista ovviamente è Ratman. Ragazzi, un bel volume con delle illustrazioni, secondo me, molto, molto belle. Alcune mai viste di Leo Ortolani, bellissime. Grazie per avermi seguito. Condividete questo video con chi ama il topo, in questo caso Ratman. E che dire, iscrivetevi al canale e a presto. Ciao.